videogiocatori bentornati sul canale di spazio games oggi vogliamo raccontarvi una curiosità già qualche tempo fa infatti si era diffusa una notizia che un titolo sviluppato a tutti gli effetti da sony presso il suo team di san diego sarebbe arrivato anche su piattaforma xbox ebbene oggi è arrivato un ulteriore dettaglio relativo proprio a questo passaggio di un gioco playstation anche su xbox che ci dice che questo gioco arriverà dal day one anche su xbox game pass il gioco in questione è mlb the show 21 videogioco dedicato al grande baseball americano che è stato come ricorderanno gli appassionati sempre a pannaggio di casa playstation il gioco sarà lanciato il prossimo 20 aprile a partire da quest'anno per la prima volta si affacerà anche su lead diversi appunto dai marchi di casa playstation il lancio su xbox game pass sarà coperto su tablet smartphone android attraverso il cloud e sarà disponibile su xbox one xbox series x e xbox series s visto su quante piattaforme questo gioco uscirà e visto che sarà un primo caso di un titolo playstation studios che arriverà anche su xbox è stato già confermato che includerà il cross play e il cross save quindi potrete muovervi abbastanza liberamente tra le diverse piattaforme e come immaginerete la notizia ha tirato particolarmente l'attenzione ad esempio di phil spencer che si è detto particolarmente gioioso entusiasta di poter vedere questo gioco finalmente anche su xbox vi ricordiamo che in questi giorni hanno fatto il loro debutto su xbox game pass anche diversi altri titoli tra cui octopat traveler e vi raccomandiamo di rimanere sempre sulle pagine di spazio games per tutti i dettagli su come e quando viene ampliato il catalogo in abbonamento di videogiochi gestito da xbox vi ringrazio per aver visto questo video io sono stefania e vi do appuntamento presto sul canale di spazio games per altre curiosità analisi e dettagli relativi al mondo dei videogiochi di domenica e e e e e e e e e Grazie a tutti.